Luciano Ligabue per dare il via al Mondo Visione Tour, Vincenzo Mollica. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Piccola città, è stata piccola città, è stata piccola città, è stata piccola città, in che si muove di qua. Mondo Visione, album di grande successo, ora diventa un tour in piccole città, in attesa di arrivare quest'estate nei grandi stadi. La partenza del tour Luciano Ligabue la gioca in casa, nella sua correggio. I biglietti venduti in 40 minuti e con una tempistica particolare che spiega lui stesso. Grazie anche in modo continuare perché so il mazzo che vi siete potuti fare, per noi che non se ne approfittassero i bagarini. Passione ed energia, classici e canzoni nuove animano i concerti pensati per le piccole città da Luciano Ligabue per cantare sempre e comunque la sua visione del mondo. Grazie. 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 Grazie.